Ed ora, bambini, un'altra sorpresa. Il cammino di montagna. Un cammino di montagna che fumava da una vita smise un dì di riscaldare quella casa infredolita. La famiglia restò male e chiamò tanti oparai, ma il cammino di riaccendersi non ne volle sapere mai. Disse allora la nonnina, io lo dico da 80 anni, che chi fuma e non smette non può avere che malanni. Ciao ciao, ciao bambini, arrivederci!